Gentili ospiti benvenuti con il telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Andiamo subito a Pordenone dove iniziano quelli che sono gli accertamenti dei RIS sugli indumenti dell'unico indagato per l'omicidio dei fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza. Stiamo parlando infatti dell'auto dell'unico indagato Giosuè Ruotolo. Saranno gli accertamenti che potrebbero portare alla svolta definitiva nell'omicidio dei fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza. Sotto la lente dei carabinieri dei RIS di Parma ci sarà la pistola utilizzata dall'assassino e ritrovata nel laghetto di San Valentino. Oltre ad alcuni indumenti sequestrati nell'appartamento dell'unico indagato Giosuè Ruotolo, Questa mattina il conferimento da parte dei magistrati della Procura è inizio delle operazioni. Tra i quesiti posti a IPM lo spettro contemplato dai sostituti procuratori Pierumberto Valerin e Matteo Campagnano è ampio. Trenta giorni i tempi di risposta indicati dai magistrati. Cinque le aree individuate, balistica, chimico-tossicologica, datiloscopica, merceologica e biologica. Balistica riguarderà la pistola ripescata nel laghetto, il proiettile trovato al suo interno e la compatibilità con i sei bossoli trovati sulla scena del delitto, nonché le munizioni sequestrate al padre e al nonno di Giosuè Ruotolo a Somma Vesuviana. Chimico-tossicologica. Si cercano residui di sparo come antimonio, piombo, bario, sugli indumenti e gli effetti personali sequestrati a Giosuè Ruotolo. Datiloscopica si tenterà di trovare impronte sulla pistola e i proiettile recuperati nel laghetto, anche se ci sono poche speranze vista la lunga permanenza in acqua. Merceologica riguarda il barattolo di vernice nera sequestrato al nonno di Ruotolo. Bisognerà stabilire se è compatibile con la vernice usata per ridipingere la vecchia beretta 7.65 trovata nel laghetto. Biologico è finalizzato alla ricerca del DNA delle vittime e riguarda le tracce biologiche trovate sulla gancia della centura di sicurezza dell'Audi A3 e sul giubbotto di Ruotolo. Verranno analizzati anche gli effetti personali sequestrati a Somma Vesuviana per verificare la presenza di eventuali tracce biologiche. A Tolmezzo invece muore stroncato da un infarto mentre raccoglie la legna. Vediamo il servizio. È morto senza emettere un lamento, così come era vissuto Maurizio Serafin, gemonese di 55 anni. Il suo cuore ha ceduto mentre si trovava nei boschi dove amava stare. Era partito presto ieri Maurizio Serafin, poco dopo le 8 del mattino era salito sul fuoristrada con il cugino Riccardo Subidussi e insieme si erano inerpicati lungo la strada tutta tornante che conduce a Cianet, località montana che sovrasta il borgo di Peonis. C'era stato appena il tempo per fermarsi al panificio di Trasaglis a comprare qualcosa da mangiare perché la giornata era lunga e c'era parecchio lavoro da fare fino a sera. Non era la prima volta che Maurizio mi accompagnava a Cianet, dove possiedo un rustico da ristrutturare, racconta Subidussi. Dovevamo raccogliere la legna tagliata ai bordi della pista forestale. La mattinata è trascorsa così, fra qualche chiacchierata e tanto lavoro. Serafin sembrava stesse bene. Ad un tratto il cugino, che si trovava a poco più di una decina di metri e di distanza da lui, si è girato e ha notato che qualcosa non andava. Ho visto che Maurizio si teneva allo sterno con la mano, racconta. Era da poco passato mezzogiorno e stavamo per fare una pausa per il pranzo. Subidussi si è chinato per raccogliere della legna, poi, preoccupato, si è voltato nuovamente a controllare come stesse il cugino. A quel punto l'ho visto riverso a terra e il racconto di Subidussi era caduto in avanti battendo la testa. Sono corso accanto a lui, ma era già privo di sensi. Ho tentato di rianimarlo con il massaggio cardiaco, inutilmente. Poi è scattata la macchina dei soccorsi. Non è stato facile per il personale del 118 raggiungere il punto in cui si trovava il corpo di Serafin. Sul posto sono arrivati anche i volontari del soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Ma è subito apparso evidente come per Serafin non ci fosse più nulla da fare. Si è atteso il nulla osta del magistrato di turno Lucia Terzariol per il trasporto della salma nella cella mortuaria del locale Camposanto. Non aveva avuto problemi di salute Serafin, né c'erano state avvisaglie, ma cinque anni fa sua mamma Egizia era morta nello stesso modo. Il cuore aveva ceduto improvvisamente, si era portato a una mano al petto ed era caduto a terra picchiando la testa. Un destino che era stato riservato anche al suo amato figlio. Passiamo ora a Cervignano dove c'è grande bufera sull'arrivo del supplente transessuale presso il liceo Einstein. Infatti i genitori si dividono tra coloro che accettano questa decisione e coloro invece che minacciano addirittura di spostare i figli in altri istituti. Si è presentato in classe al liceo Einstein venerdì scorso per il primo giorno di supplenza vestito da donna con rossetto ed orecchini. Lui si chiama Michele Romeo, originario di Taranto, residente a Trieste, laurea in fisica transessuale o come ama definirsi, intersessuale. Non ne fa mistero, basta visitare la sua pagina di Facebook dove le foto anche in pose osè abbondano. Ovviamente la cosa non ha lasciato indifferenti negli studenti, nei genitori e neppure i suoi colleghi. E qualche mamma ha già annunciato di voler trasferire il proprio figlio finché quel prof resterà a scuola. Il preside Aldo Duri, secondo quanto riporta un quotidiano locale, parla di un docente preparato al di là dell'aspetto esteriore e dal momento non ha intenzione di intervenire. Agli studenti il prof ha subito spiegato di essere un'ermafrodita non inquadrabile nei due ambiti, maschio o femmina. Interventi chirurgici non ne vuole fare, l'unico ostacolo per lui è il pregiudizio. Andiamo ora a Udine con una notizia che riguarda una signora che andando a pulire la tomba dei suoi cari viene derubata. Manca poco alla ricorrenza del primo novembre e dei campi santi si sistemano le sepolture con pulizie, deposizione di fiori e lumini. I cimiteri, insomma, sono più frequentati in questi giorni rispetto al resto dell'anno e per facilitare l'afflusso delle persone, l'amministrazione comunale di Udine informa alla cittadinanza che i cancelli dei vari cimiteri resteranno aperti ininterrottamente dalle 8 alle 19 a partire dal 24 ottobre e fino a tutto il 4 novembre. Gli uffici di Palazzo d'Aronco raccomandano di non lasciare incustodite borsette ed altri oggetti personali per evitare spiacevoli contrattempi derivanti dal grande affollamento che caratterizza queste ricorrenze. Il Comune ha preso contatti con i carabinieri, Polizia Municipale e anche Questura per intensificare la sorveglianza in tutti i cimiteri cittadini in queste giornate. Ma c'è comunque chi resta vittima dei ladri. È successo nei giorni scorsi nel posteggio del Camposanto di Butrio dove una donna di Ipercoto si era recata in visita alla tomba dei suoi cari lasciando nell'automobile la sua borsetta e dimenticandosi di chiudere a chiave la vettura. Dopo aver sistemato fiori e lumini e aver detto una preghiera è tornata nel posteggio facendo l'amara sorpresa. La borsa era sparita dalla macchina, rubata insieme ai suoi documenti personali e dalla tessera del bancomat. Amareggiata la donna che ha chiamato i carabinieri per segnalare il fatto e sporgere le denuncia. E sempre a Udine, Alvedis Tibaldi afferma che di contestare il Presidente del Consiglio per le decisioni prese. Vediamo di che cosa si tratta. Siamo con Aldevis Tibaldi, Presidente del Comitato del Friuli per la vita rurale. Oggi lei è stato tra uno degli organizzatori a ricevere Renzi a Udine. Può dirci di questa iniziativa? Certo, noi abbiamo chiesto già giorni fa come Comitato per la vita del Friuli rurale abbiamo chiesto di poter contestare davanti al teatro Giovanni D'Audine e contestare il Presidente del Consiglio per le varie iniziative che questo Presidente del Consiglio e la sua adepta, la governante Seracchiani stanno portando a termine a danno di questa regione. Cioè in danno dell'autonomia che viene via via ogni giorno dopo giorno erosa. E anche in danno di questo ambiente, del nostro ambiente che viene offerto alle iniziative speculative di chiunque abbia parenti a Roma e quindi possa poi imporre in questa debole regione i suoi desideri e i suoi affari. L'elettrodotto? L'elettrodotto Re di Puglia Udine Oves ma non solo, noi abbiamo lottato contro l'elettrodotto già quello del Carso Triestino, abbiamo lottato contro l'elettrodotto Ocroglo Udine Oves e l'elettrodotto della Carnia e questo da otto anni a questa parte. Ma non solo, noi stiamo lottando su tutti i fronti, sullo sfruttamento, contro lo sfruttamento del territorio del Friuli rurale non solo, collegati con gli amici del Veneto, collegati con gli amici delle altre regioni, dell'Aquilano eccetera eccetera. Voi volevate una risposta del Presidente del Consiglio in merito anche al ricorso che avete fatto, il Consiglio di Stato che avete vinto? No, no, noi volevamo solo dimostrare che noi siamo ostili a una politica che è assolutamente assoggettata ai voleri romani. Noi volevamo dimostrare questa nostra determinazione e per questo abbiamo imposto, preteso dalla Questura di Udine, la presenza nella piazza antistante. e grazie a noi poi alla fine si sono accodati anche altri friulani e hanno potuto stare accanto a noi perché noi alla fine abbiamo ottenuto il permesso, non avremmo assolutamente accettato nessuna limitazione alla presenza, salvo il fatto poi, come ripicca, andare dentro nel teatro e protestare all'interno del teatro. A Campo Formido invece il nostro Lauro Nicodemo è andato a sentire il segretario regionale del Friuli Venezia Giulia Nicola Bortolo, infatti quest'ultimo ha affermato che l'assenza della bandiera italiana in una sede istituzionale è inammissibile. Nicola Di Bortolo, responsabile regionale di Casa Pound Italia, Udine. Oggi siete Friuli Venezia Giulia, Udine. Voi oggi siete venuti qui a presenziare, a verificare, a vedere un'importante conferenza pubblica, il partito territoriale organizzato dal Movimento Autonomista Patria del Friuli. Avete contestato la non presenza della bandiera italiana perché siamo bene o male comunque sempre in Italia e questo siamo al centenario della grande guerra, quindi un elemento estremamente importante che avete voluto mettere in evidenza. Ecco, come mai avete pensato di venire in questa conferenza, in questo convegno? Noi pensiamo semplicemente che questa situazione nazionale e anche europea proposte come questa della logica di Vidi e Impera non tornino affatto utili. Cioè in questo momento andare a disgregare la nostra situazione nazionale può essere tutto che una buona idea. E comunque, come ha già aggiunto lei, quest'anno ricade il centenario della grande guerra. Cento anni fa ci sono i nostri nonni, bisnonni, padri, perché hanno una certa età, che hanno dato il sangue, hanno dato la vita per darci questa nazione e per quelli che ho avuto anch'io a modo di conoscere, nessuno di loro, nonostante poi abbia avuto magari una vita da invalido di guerra, abbia avuto comunque una vita difficile, si è mai vergognato e ha mai rinnegato il sacrificio fatto per questa nazione. 600.000 morti, 9 milioni di morti in Europa. La guerra è una cosa, la guerra non è che poi non puoi scappare, devi affrontarla. Noi applaudiamo comunque al sacrificio di queste persone, noi riconosciamo in loro il valore che comunque è quello su cui si è fondata questa nazione, altrimenti questi confini non ci sarebbero. E secondo noi, in una sala istituzionale della Repubblica, dove comunque dovrebbe esserci un tricolore, la mancanza è stata una mancanza di rispetto proprio per quella bandiera. Grazie a tutti per averci seguito con il Tg del Friuli Venezia Giulia e ci vediamo con il prossimo appuntamento. Grazie a tutti per averci seguito.